I buoni attori sono rari. Se non hai un buon attore, poi hai tutto questo fai... L'ok te lo deve dare Andy Warhol. Quando sei davanti al microfono devi mettergli tutto te stessa, devi metterci il tuo cuore, la tua pancia, la tua testa. Il migliore servizio che si possa fare al doppiaggio e la sua totale è soppressione. Non è vero. I talent sono la parte più ignorante del doppiaggio. Siamo i più bravi, quelli che lo facciamo meglio, che abbiamo insegnato a farlo anche ad altri paesi. Questo è senz'altro vero. È uno strumento attraverso il quale si può plasmare un pubblico. Il doppiatore è una seconda madre che nutre di emozioni quel personaggio che ha dato delle emozioni una prima volta nella sua lingua originale. Mettere una faccia, metterci una voce e creare personaggi che esistono solo ed esclusivamente nella fantasia. È come respirare a pieni pulmoni. Che bello. Ciao. Ciao.